Multe fino a 500 euro per chi spreca acqua potabile. A Cortone è scattato il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile per uso improprio dal 1 agosto al 1 settembre 2018. Facciamo appello a tutti i nostri concittadini, si legge in una nota dell'amministrazione comunale al fine di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critica causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell'aumento di consumi per attività turistiche, irrigue ed altro. A tal fine è fatto il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rullali per scopi diversi da quelli genico-sanitari. Chiunque violi questo provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da 10 500 euro. La polizia locale e il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati al controllo dell'esecuzione di quest'ordinanza. Invitiamo tutti i cittadini, conclude l'amministrazione comunale di Cortona, ad adottare ogni comportamento utile al conseguimento del risparmio idrico.